La nuova Russo Calcio potrebbe approfittare in modo deciso della chiusura dei battenti della fiume freddese. La società biancazzurra del presidente Pietro Romano sta guardando con grande interesse ai gioiellini che furono di Antonio Bucciarelli. Il primo desiderio nella lista della spesa si chiama Sascha Leonardi. Il playmaker mascalese con i suoi piedi buoni è in grado di fare la differenza in prima categoria dopo i tre anni molto positivi a fiume freddo. Poi mister Barbagallo punta ad altri svincolati, soprattutto reduci dal settore giovanile della fiume freddese. L'obiettivo è quello di mettere insieme il meglio dei talenti venuti fuori negli ultimi anni dell'Interland Ionico Etneo.